Lo sviluppo sociale rivendica e al termine della messa con l'accensione della lampada votiva si rifà espressamente al messaggio di San Francesco gli ultimi saranno i primi per raccontare la necessità di includere nella società chi ora non lo è per ragioni economiche e si dice così particolarmente orgoglioso del reddito di cittadinanza da non intendersi sottolinea come una misura assistenzialistica cita poi le altre misure previste nella manovra, l'inalzamento delle pensioni minime, gli interventi sulla legge Fornero il ristoro a chi ha visto i propri risparmi andare in fumo ma dalla loggia della Basilica di Assisi annuncia con soddisfazione anche il decreto con la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione di Genova